ATI presenta Gilberto Govi in I Mugugni di Baciccia Mazzate un sciupup da fota, mi sento una rabbia Oh Baciccia, e stamattina con chi ce l'abbiamo? Manda a stare Stamattina la colpa del mio Mugno è un po' con lei Continuano a stampare che lei non è a Genovese Lo è o non lo è? Ma sì, sì, nato a Genova, a Sena Allora protesti, ci mandi un avvocato, ci mandi magari carabinare in defesa E perché? L'ho già detto e ridetto Che poi non devo mica offendermi Anche se stampano che sono nato altrove No signore, lei è Genovese E bisogna che tutti lo sappiamo Ecco, sa cosa potrebbe fare lei? Che ogni tanto viene fuori nella televisione Ci lo dica in televisione che è Genovese Quello sarebbe un bel sistema Per farcela sapere a tutti E non ci costerebbe niente Oppure, sa cosa potrebbe fare Come gli automobili Se mette una bella salga davanti e dietro Con scritto G, Genova Nato l'anno Ma con lui, me lo so me lo perdono Me lo promette che lo dirà in televisione Me lo promette Se proprio mi farà piacere E aggiungerò anche che sono nato settimino, va bene? Settimino? Un po' c'è rebociccio, settimino Si lascia un po' conto carica Settimino porta fortuna, no? Ma scusi se quando parlo Alzo un po' con la voce Ma è che da questo? Lo so, lo so che vuoi da un orecchio Da questo niente Da chi? Allora d'accordo che è in televisione Cos'è almeno i giornali Perché i giornali Eh, però guardi Tante volte anche nei giornali Qualche cosa che ti allarga il cuore Cioè, guardi un po' che bello Tè, ati, nuovo raccolto Grazie, care Ci voleva proprio Delizioso Fragrante Attenzione però Solo i tè ati ha tutta la fragranza del nuovo raccolto E per una perfetta tazza di tè Ecco le quattro regole d'oro Riscaldate la teiera Mettete un cucchiaino di tè ati nuovo raccolto per ogni tazza Più uno per la teiera Versate l'acqua bollente sul tè ati Attendete quattro minuti e servite Tè, ati, nuovo raccolto Questo qui è uno scherzo semplicissimo Serve soltanto un pomeriggio libero Un laghetto E una canna di bambù State a vedere La canna di bambù Buongiorno, un nuovo metodo per pescare, senza filo e senza amo, senza amo Vieni a bocca no? Oggi con lei cinque, giorno E' uno scherzetto innocente, non occorre neppure la licenza di pesca Comunque quando si scherza si scherza, ma quando si condisce, olio sasso Olio sasso, olio d'oliva La scelta dell'olio è una cosa seria Buon umore, tranquillità e successo dipendono da una buona digestione Olio sasso, limpido, gusto delizioso, veramente leggeri i cibi con olio sasso Per l'alimentazione dei bimbi, per le persone raffinate, per tutte le età, olio sasso Olio sasso, olio d'oliva Olio sasso, 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 ol Per sapere l'ora, sì, grazie, molto gentile. Briscola! Qui bisognerebbe fare la media oraria come al giro d'Italia. Gli orologi sì che hanno un cuore, tre di più o due di meno, non fanno tante storie, non come quel simpatico cameriere di oggi al ristorante. Briscola! Quante? Briscola? 3.000 lire. Ah, ecco qua, 2.000, 2.000. Oh bella, non ne ho altre. No, no, un momento, scusi. No, no. Oh! Che pillone! Ah, ma non finisce così. Tu non sai chi sono io, caro il mio orologio? Gustavino butta l'acqua. Glossi di ferro! Anzi, anzi, Glossi di Ferrari! Domani vado in quel maledetto ristorante carico di soldi e appena quel piedi dolci mi si avvicina gli dico Ehi, servo della greva! Chiamami subito il padrone che voglio dirgli che in questo locale il servizio fa pena. Anzi no, anzi, me ne vado! Briscola! E non mi fermo nemmeno se piazza. Via! Puzza via! E con questo pulisci il muso. Ma sì, forse ho esagerato un pochino. Ma Briscola! Non si scherza! Con una classe di ferro! Anzi, anzi, classe di Ferrari! E poi? Beviamo ai nostri padri vino buono in quantità. E noi che finisiamo Ferrari beviamo il vino genuino di classe e qualità. Signorilità, allegria, genuinità con vino Ferrari. Briscola! Che regali! Salute! 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 Rubello Ferrari e Ambratello Ferrari i vini dei nostri vigneti del Garda. Camela, Emy, René, Lauren, Anna, Fanny, Leslie, Evelyn, Vigna. Sì, 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 sì! Abbiamo lasciato le luci di Montgray delle mille luci che brillano night and day per venire qui, su questo set è più di tarvi una città di me venire Gillian Hills Allora, donne qua le luci n'y è fa s'il y è tè il mangerà quand j'avais 15 anni Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gioia di vivere, cantare e sognare. La casa dei sogni è pronta per noi, è bello sognare se tu sei con me. Il nuovo Permaflex, più morbido, più leggero, per tutta la vita, Permaflex. Permaflex, il famoso materasso a molle, l'amico dei nostri sogni. Buonanotte a tutti con Permaflex. Permaflex. Ati. Sasso. Casa di Nicola Ferrari. Permaflex. Vi hanno presentato? Carosello. E vi danno appuntamento per le prossime trasmissioni. Grazie. Grazie. Grazie.